La conferenza stampa è dedicata alla presentazione di un documento, un white paper, per la promozione delle cure palliative nel mondo. Per noi è importante supportare dal punto di vista etico e culturale quest'area, possiamo dire relativamente recente della medicina, a sostegno delle persone fragili, delle persone in fase avanzata di malattia, delle persone morenti. Quindi sappiamo benissimo quali sono le sfide sociali e culturali di oggi. Papa Francesco ci parla, non solo in relazione a questo contesto, però sicuramente valido anche per questo contesto, di una cultura dello scarto, di una cultura in cui domina la mentalità utilitaristica che tende a demarginare chi non è all'altezza della competitività richiesta dalle nostre culture. Certamente il malato cronico avanzato con disabilità è un soggetto fragile e vulnerabile. Le cure palliative si propongono, si prefiggono di prendersi cura, di accompagnare fino alla fine questi malati.